Nespresso, pioniera e punto di riferimento del caffè porzionato di alta qualità, ha ottenuto a livello globale la certificazione B Corp con l'impegno a rispettare elevati standard di responsabilità sociale, ambientale e di trasparenza. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.